Il mercato pubblicitario per il quinto anno consecutivo è in crescita e proprio le Olimpiadi porteranno diverse centinaia di milioni. Paolo Gila. Il mercato pubblicitario nel 2019 in Italia crescerà dello 0,5%. La stima è stata presentata all'Assemblea dell'UPA, l'associazione che riunisce il mondo della comunicazione e degli utenti pubblicitari. A questo risultato positivo contribuisce in particolare il web, verso cui è ormai destinato il 30% degli investimenti, bene anche la radio, in stagnazione la televisione, in forte contrazione la carta stampata, che dal 2008 ad oggi ha visto decrescere di due terzi il suo fatturato. Le prospettive per la videoterapia cartacea è una traversata nel deserto, debbono trasformarsi, capire le potenzialità che nascono da internet. Le riflessioni degli operatori sono ora concentrate sugli sviluppi tecnologici grazie all'introduzione del 5G. Tenete conto che oggi per scaricare un film ci vuole qualche minuto, un domani sarà una questione di secondi. Mentre buone prospettive ci sono per le Olimpiadi del 2026, che porteranno a un incremento degli investimenti. Parliamo di decine se non centinaia di milioni di risorse pubblicitarie che arriveranno aggiuntive, che arriveranno attorno alle Olimpiadi Invernali. Contro i